Ispo 2017 3Z presenta Spring, una scarpa dall'aspetto tecnologico che unisce però la vivibilità per qualsiasi tipo di utente quindi un amplissimo raggio di utilizzatori perché questa scarpa ha le caratteristiche di leggerezza date da una intersuola micropolosa, una suola Vibram, una estrema cura nei dettagli, nella costruzione, accostamenti dei colori che sono molto importanti per il pubblico femminile, una scarpa che chiunque può portare tutti i giorni in qualsiasi situazione con qualsiasi tipo di abbigliamento. Grazie Grazie Grazie